Grazie mille, Giussi. Beh, io vi direi di lasciarvi un po' liberi anche fuori dal precompilato, anche di aggiungere cose che volete magari rispondervi tra di voi, sempre sul tema, ti diamo l'onore di iniziare, direi. Sì, sì, un po' fuori dalle domande, perché magari noi le abbiamo impostate sulle cose che ci interessavano, però voi magari volete aggiungere qualcosa. Ma non saprei dire, ora mi cogli alla sprovvista, non mi ero veramente preparato nulla. Diciamo quindi, insomma, sì, io penso questo, che appunto per uscire dalla ossessione punitiva bisogna avere la forza di coltivare un altro tipo di relazioni. in questo, appunto, che certamente è una pratica che si può fare avendo quella postura, come dicevi, oppure l'orizzonte, diciamo così, scegliendo un punto, diciamo così, da cui si può vedere, diciamo così, un orizzonte abolizionista. Io credo che in questo, diciamo, c'è molto utile, lo dico, diciamo da maschio, che ha sempre, diciamo così, seguito di fianco le pratiche, le culture, le esperienze femministe per relazioni personali, diciamo così, molte mie maestre, della mia compagna, diciamo così, ora di mia figlia, diciamo, insomma, quindi ho imparato molto, diciamo, e penso che, appunto, il femminismo ci dà tanto. Ci dà tanto perché ci dà esattamente quell'idea della cura delle relazioni. In questo senso, diciamo così, abolizionismo e femminismo, diciamo così, stanno insieme, diciamo, perché il femminismo ci aiuta, diciamo, a pensare, ad avere quel punto d'osservazione, quello sguardo abolizionista, non per, diciamo così, una movenza intellettuale, razionale e astratta, ma perché, appunto, ci insegna che il cambiamento si fa nelle relazioni con le persone e dunque, diciamo, una prospettiva abolizionista si può fare, diciamo, si può perseguire dentro la relazione con le persone, che è l'unico modo per fare le cose, diciamo così, non semplicemente per annunciarle, diciamo così. Oddio. No, grazie Stefano, perché devo dire che quando abbiamo impostato questo dibattito la domanda è stata ma perché c'è un uomo? Cioè, lo voglio dire proprio palesemente, però tu ci hai dato una risposta. Noi non volevamo che fosse un dibattito di donne fatto per le donne. Cioè, doveva essere ulteriore, quindi grazie per averlo detto, caspita. Ecco. Mentre parlava Stefano e faceva il femminista, no, perché... Attenzione, io non lo dico di meno. Ho avuto anche su questo una discussione con mia figlia, diciamo, se io mi devo dichiarare femminista oppure no. E io penso che in quanto maschio sto bene di lato, diciamo così. Però imparo, diciamo, e cerco di praticare quello che imparo. No, però richiamando, diciamo, l'etica della cura in qualche modo, in realtà l'etica della cura si ritrova anche nella storia abolizionista che abbiamo richiamato stasera. Cioè, fondamentalmente, l'utopia della realtà o quello che io chiamo il realismo magico basagliano è immaginare di poter davvero riportare ogni malato a persona e quindi instaurare la relazione di cura. E tra l'altro, insomma, ritornando al carcere, custodia viene da cura. Cioè, sarebbe un incarico di cura essere in custodia dello Stato. Cosa che manca, ma il lavoro di cura, il lavoro di relazione, quindi il lavoro interpersonale è la condizione minima sia per ragionare di trasformazioni nonché per immaginare la dimensione di comunità. Perché senza cura e riconoscimento reciproco, l'idea stessa di comunità e più scalare di società diventa molto difficile. per cui c'è un nodo comune che ti dice tu devi vedere l'altro, tu devi pensare l'altro e devi stare accanto all'altro. Se no, questa cosa non si può fare. In ognuna delle dimensioni che abbiamo visto stasera, secondo me. Giussi, se vuoi. Aspetta che non ti sentiamo. Prova. Non so se mi sentite. Ottimo. Ok. No, non posso che aggiungere che non esiste abolizionismo senza femminismo. Cioè, il femminismo non deve aiutare l'abolizionismo, ma credo che le persone che hanno... cioè, il femminismo debba stare al centro della prospettiva abolizionista. E soprattutto al centro devono essere le esperienze delle donne, delle persone che hanno subito la violenza, perché la loro analisi è quella che ci permette di tenere tutto insieme, no? Quello che ci permette di fare quello che diceva Bellux. Dopo un ragionamento che serva a dividere giustizia e punizione, riusciamo a mantenere insieme l'idea di rendere accountable le persone che hanno agito la violenza, senza rinunciare a vedere la loro umanità. Ebbene, grazie. No, è stato veramente un dibattito, penso anche per il pubblico che non vedo, interessante. Una cosa che volevo dire, giusto per arrivare alla chiusura, è che anche per noi, come Movimento, come Sherwood Festival, è stato un percorso. Cioè, in questi anni abbiamo sempre dedicato uno spazio di discussione alle tematiche del penale, alle tematiche della repressione. In passato abbiamo parlato di abusi in divisa o anche di morti di Stato. L'anno scorso abbiamo parlato di 41 bis e del caso Cospito. Oggi, se notate, siamo arrivati all'abolizionismo, quindi è stato anche per noi un percorso molto graduale. E interconnetterlo poi con la tematica del transfeminismo è stata una svolta. Perché lo diciamo anche noi, tra compagne, cioè spesso non si parla mai di questa tematica declinandola all'interno di un contesto italiano. La letteratura su questo tema è specialmente americana. Cioè, fortunatamente Angela Davis ci ha dato una chiave per poterla anche interpretare, ma non basta. Perché lo scenario americano sappiamo che è veramente, totalmente l'opposto rispetto al nostro contesto più del bel paese. E quindi dibattiti come questi possono essere veramente utili e necessari per costruire il nostro immaginario abolizionista che nasca proprio da questo paese. Quindi vi ringrazio veramente tantissimo per averne parlato qui, in questa sede.